e qui più sono come due pezzi va dentro un altro fosso che andando là in fondo magari diventa maestro di un'altra perché è basato sul fatto che tutta la terra è in creato quindi la grande ingegneria è questa l'ingegneria dei monaci è questa perché non è vero che le marchiglie hanno stato i monaci le marchiglie hanno stato i contagini però i contagini avevano un prato mentre i monaci sono stati a fare l'ingegneristica è cambiata da fare poi l'erba è così sto dicendo